Seguite sempre, Carbonia 2015 chiederanno a voi di allontanarvi da questa chiamata, vi metteranno in condizioni di pena, cioè di scavitù, ma voi sarete presto messi in ordine sacerdotale dal sommo sacerdote, eterno sacerdote, il Cristo amore. Sovvertirete le loro calugne, vi prenderete per mano e combatterete le loro eresie e sarete vittoriosi in me, perché in me risiederete pieni di Spirito Santo. Saranno presto conosciuti al mondo e il mondo attraverso le loro opere vedranno la mia potenza e crederanno in me, desidereranno avermi nel loro cuore e nutrirsi di me, della mia bellezza e del mio amore. Quello che voi trasmetterete attraverso la luce che io stesso metterò in voi, quale riflesso della mia stessa luce. Sempre Carbonia 2010 Gesù scenderà a dettare le sue nuove leggi alla nuova umanità e nella sua casa mai più ci sarà il vento del male. La mia grazia sarà su tutti i miei figli, il mio spirito io manderò su di essi, nella battaglia saranno forti e combatteranno come leoni e le loro gesta saranno segnate sul libro nuovo della vita. Quindi a partire da questo giovedì gli apostoli degli ultimi tempi saranno ordinati, consacrati come i sacerdoti, acquisiranno delle potenzialità, diventeranno i rappresentanti della nuova umanità, perché arriva una nuova era, quindi ci sarà il parto di una nuova umanità e acquisiranno potenza dallo spirito santo. Io prima che cosa avevo detto? Quando uno viene toccato dallo spirito santo, se è lontano dal peccato, comincia ad avere degli intuiti, a sentire l'informazione di Dio, ad avere delle percezioni, quindi ad aumentare la sua intelligenza, quindi questi sacerdoti, questi nuovi sacerdoti con un'intelligenza divina andranno in giro per tutto il mondo a evangelizzare, non come fanno gli evangelisti con la Bibbia in mano che fanno delle figuracce in mezzo alla strada o come facevo io con i foglietti sulle apparizioni mariane che mi facevo ridere dietro da tutti, però facevo sempre una bella cosa. Questi sacerdoti con un'intelligenza divina andranno in giro per il mondo a evangelizzare e manifesteranno una potenza delle opere simili a quelle che ha fatto Gesù Cristo per strappare i più anime possibili dal potere dell'anticristo. Vediamo questo video. Apre e chiude la porta e sul pianerotto lo trova Roll e lui rimane sbalordito e dice ma Gustavo come mai qui sto venendo io a Torino da te? Scendono insieme le scale, due piani, arrivano giù, entrano tutti e due nel taxi che aspettava per andare all'aeroporto, uno entra da destra, uno entra da sinistra, Fellini si accomoda sulla destra, poniamo sul retro della macchina e Roll sulla destra scompare, non c'è più. Nei suoi numerosi viaggi ha occasione di conoscere anche Padre Pio. Riuscire a fare attraversare una parete da un oggetto che si trovava poi al di là della parete in un'altra stanza, in un altro luogo, addirittura in un'altra città. Tanta umiltà, tanta bontà e tanta sensibilità. Lui è riuscito a salvare diversi partigiani che erano stati condannati a morte. Questi ragazzi hanno stati scoperti in possesso di armi, allora Roll affrontò il generale tedesco e gli disse lei sta prendendo un abbaglio e il generale gli rispose come fa ad essere così sicuro? Roll disse sono così sicuro di questa cosa come sono sicuro di ciò che lei possiede nel cassetto della sua scrivania ad Amburgo. E allora arrivavo a leggere le lettere che loro ottenevano del cassetto a Graz, a Düsseldorf. In cambio otteneva la vita di un dei partigiani. Con Gustavo ero talmente abituato a considerare il paranormale come normale che non c'era più niente che mi stupiva. Ci è parlato del fatto che la stagione era così che c'erano delle castagne per terra. Gustavo ha detto castagne e all'istante una pioggia di castagne sono arrivate nella camera, ma c'erano delle centinaia per terra. Gli capitava nei negozi per la strada, venga qui signora, venga qui lei ha bisogno di essere vista immediatamente da un chirurgo, ha qualcosa di brutto la mammella. Lui è andato nell'altra camera attraverso il muro. Gustavo Roll, ve l'ho nominato prima, non aveva soltanto delle percezioni, ma ha manifestato delle potenzialità simili a quelle di Gesù. per esempio si era manifestato sul pianerottolo della casa di Federico Fellini, hanno preso il taxi insieme, erano seduti uno vicino all'altro e Gustavo Roll è scomparso, se l'aveva di fianco è seduto e scomparso. Oppure Gustavo Roll è passato attraverso un muro, ci sono delle testimonianze un po' come aveva fatto Gesù davanti all'Apostoli. Oppure Gustavo Roll ha materializzato delle castagne dal nulla, un po' come faceva Gesù. Quindi i sacerdoti della nuova era avranno tutte queste potenzialità e faranno delle grandissime opere simili a quelle di Gesù e saranno delle opere talmente grandi che saranno scritte anche sul libro della vita come ci ha detto questo messaggio e compiranno queste opere per strappare più anime possibili dal demonio, dall'anticristo, quindi per combattere l'anticristo. Antonio Apparizioni Capua Caserta 2003. In questi figli molti riconosceranno la mia potenza, i nuovi sacerdoti, la mia potenza divina su di loro, essi avranno il compito di condurre quanti avranno perseverato nella fede della nuova Gerusalemme promessa dai nostri padri. Quindi i sacerdoti della nuova era compiranno queste opere immense ai livelli di Gesù Cristo, un po' come aveva fatto Gustavo Roll, per salvare più anime possibili ma anche per fare in modo che queste anime entrino nel nuovo regno che si instaurerà sulla terra, questo nuovo regno chiamato la nuova Gerusalemme. Ogni regno ha una sua capitale, quindi in questo regno naturalmente la capitale sarà Gerusalemme, però se avete ascoltato i miei video Gerusalemme è stata spostata spiritualmente a Roma, infatti Gesù era morto in croce e prima di morire che cosa aveva detto? Perdona loro perché non sanno quello che fanno. Davanti a Gesù c'erano gli ebrei, gli ebrei in passato, in antichità erano stati istruiti dal profeta Daniele, dal profeta Elia sulla prima venuta di Gesù e sulla seconda venuta di Gesù, ma nonostante ciò davanti a Gesù che cosa hanno detto? A morte, mettetelo in croce. Invece i romani che erano lì davanti a Gesù crocifisso non erano stati istruiti dai profeti come Elia e Daniele sulla venuta di Gesù e sulla seconda venuta di Gesù, quindi non sapevano quello che stavano facendo, quindi in quel momento Gesù ha perdonato i romani e ha trasferito spiritualmente Gerusalemme a Roma, infatti guarda il caso San Paolo e San Pietro dove hanno concluso la loro missione a Roma, è un caso? Certo che no, Roma, Roma, due cronache, mentre presso di loro i sacerdoti suonavano le trombe avvenne che quando i suonatori, i cantori fecero udire all'unisono la voce per lodare e celebrare il Signore e il suono delle trombe, dei cembali e degli altri strumenti si levò per lodare il Signore perché è buono, perché la sua grazia dura sempre, allora il Tempio il Tempio si riempì di una nube, cioè della gloria del Signore in antichità a Gerusalemme avevano costruito un Tempio, quel Tempio era una struttura che ospitava la gloria di Dio, adesso sta tornando Gesù, è scritto Matteo 24, torna con la sua gloria, quindi seguite sempre il filo, abbiamo accumulato questi elementi, come vi ho detto prima nel messaggio di Giampiglieri Gesù torna con la luce di Dio per illuminare i cuori delle persone, quindi primo elemento abbiamo un cuore, Gesù nel ritorno in tutti i dipinti, in tanti dipinti vediamo che gli angeli sono disposti a cerchio, gli animali, le pecore hanno cominciato in Mongoglia a girare a cerchio nel recinto, proprio nel recinto numero 13, il 13 indica la fine di un ciclo e l'inizio di un nuovo ciclo, questo nuovo ciclo ve l'ho detto, è la nuova epoca dello Spirito Santo, la nuova era, il ciclo presente qual è? È il ciclo del serpente che si morde la coda, l'uroboro, del serpente che si morde la coda che sarà schiacciato dal talloni di Maria, ed è il ciclo di Satana, dell'anticristo della materia, quindi fra un po', quindi fra un po' si incrociano due cicli, due epoche, l'epoca l'era della materia, l'era dello Spirito, si incrociano due cerchi e quando si incrociano due cerchi, si intersicano due cerchi, formano una mandorla. L'elemento più associato alla mandorla in tanti dipinti che cos'è? È il Cristo Pantocratore, quindi secondo elemento abbiamo il Cristo Pantocratore. la mandorla è anche chiamata Vessica Piscis che indica la creazione, infatti quando l'ovulo viene fecondato si sdoppia e nel mentre si sdoppia ci sono sempre due cerchi intersecati, due cerchi intersecati, cioè una mandorla. Quindi la mandorla indica proprio una creazione, ma creazione di che cosa? L'ho detto prima, la creazione di una nuova umanità potenziata dallo Spirito Santo che col potere dello Spirito Santo combatterà contro la forza dell'anticristo. Il simbolo di potere e di battaglia è il Pentagono. Infatti il Pentagono è il simbolo dell'esercito più potente al mondo, dell'esercito americano che è potente all'incirca come l'esercito russo. Gli ultimi apostoli, i nuovi sacerdoti potenziati, cercheranno di salvare i più anime possibili per portarle nel nuovo regno della nuova Gerusalemme, ma Gerusalemme è stata spostata a Roma, quindi altro elemento abbiamo Roma. In antichità avevano costruito a Gerusalemme il Tempio per ospitare la gloria di Dio, adesso Gesù torna con la sua gloria. Quindi dobbiamo costruire un Tempio dove? Nella nuova Gerusalemme a Gerusalemme, però Gerusalemme a Roma, quindi dobbiamo costruire un Tempio dove? A Roma. Ok? Quindi abbiamo accumulato questi elementi, un cuore, un Cristo Pantocratore, un Pentagono, Roma e un Tempio. Ci siete? Guardiamo questo video. E un giorno il Signore mi ha fatto vedere un luogo, mi ha fatto vedere una struttura. Questo luogo rappresentava questa grandissima facciata con Gesù Pantocratore, la Bibbia era il portone d'ingresso, sono entrata in questo luogo con una traslazione e accanto a me la presenza di qualcuno che mi guidava. Io vi posso garantire che quello che vidi all'interno era qualcosa di molto grande, molto spazioso, che dava un po' l'idea di un anfiteatro al chiuso dove c'era un palco, tante persone sarebbero state lì nella possibilità di essere accolti perché era appunto a mo' di teatro. All'interno di questa struttura andando avanti vi erano dei grandi magazzini dove all'interno c'erano gli scaffali, sopra questi scaffali visibili erano le varie taglie di vari indumenti, quindi dalla S, M, L, XL. Così accanto c'era un magazzino per gli alimenti a lunga conservazione e accanto ancora il terzo dove c'erano tutte situazioni che servono per coprirsi, quindi coperte, lenzuola, asciugamani, sacchi a pelo eccetera eccetera. Su tutta l'ala sinistra invece vi era una grande mensa con tantissimi tavoli molto semplici, una cucina a vista e io capì che questa era una struttura che il signore voleva che si costruisse per lui, dove non era compreso, non mi è stato detto. In un'altra traslazione fui portata come su un elicottero dove dall'alto si vedeva un grande cuore illuminato come un led con tutti i raggi che sorvolando Roma si sarebbe visto da qualsiasi parte. Il signore mi dice la chiave della vostra salvezza è il mio cuore misericordioso. Cosa facemmo immediatamente? Prendemmo subito una mappa dal satellite e ci accorgemmo che questo luogo dall'alto è a forma di cuore. Tutto combaciava, tutto era vicino a lei, tutto dovrebbe essere realizzato all'interno. Che cos'era questo luogo? Mi è stato detto successivamente. Il luogo che il signore vuole che si costruisca in questa città santa è il tempio della misericordia perché la chiave della nostra salvezza è il suo cuore misericordioso che noi riusciremo a vedere anche dall'alto sorvolando Roma. Questo progetto è stato annunciato a Tina Fasanella della Madonina dell'albero, cioè la costruzione di un tempio, guarda il caso, dove? A Roma, la nuova Gerusalemme. A Roma in un punto qualsiasi? No, al quartiere Eur. La piantina del quartiere Eur è a forma di pentagono. Guardate qua, è un pentagono. Pentagono simbolo di battaglia. L'ingresso del tempio della misericordia che cos'è? Un Cristo pantocratore, la mandorla mistica e il tempio sarà costruito sopra all'ex velodromo che è un campo a forma di cuore, come vi ho detto prima. Quindi, quindi, il tempio della misericordia è sicuramente il punto principale di incontro con Gesù quando tornerà con la sua gloria a portare l'avvertimento ed è il punto principale dove gli apostoli degli ultimi tempi saranno potenziati e diventeranno potenziati i sacerdoti della nuova era e cominceranno a combattere con il potere datoli da Gesù contro le forze dell'anticristo. Gli animali con tutti questi segni, se noi li sviluppiamo, se noi li approfondiamo, ci stanno dicendo che stiamo proprio entrando in questa nuova era. Ok? Chiedo la diffusione massima di questo video, come al solito chiedo la traduzione di questo video in varie lingue perché è molto importante e vi ringrazio cari amici. Ho finito. Grazie, grazie mille. Grazie a tutti.